Da sempre, il CPM Music Institute è la scuola di musica più ambita d'Italia. Prepariamo cantanti, musicisti, arrangiatori, dando loro la possibilità di entrare ed affermarsi nel mondo della professione. Condividi e affida la tua passione ad una grande scuola, scegliendo i corsi online del CPM Music Institute, ovunque tu sia. Studia con affermati musicisti e produttori. Sarai seguito con sensibilità. Insieme avrete a vostra disposizione strumenti didattici semplici e innovativi, che ti accompagneranno passo per passo, in modo chiaro ed efficace, nel tuo percorso di studi. Segui i corsi online del CPM. Ogni traguardo conseguito è certificato e se il tuo obiettivo è raggiungere l'alta formazione, con i corsi online puoi prepararti per accedere al percorso di alta formazione AFAM. Scegli di studiare con chi, da oltre 35 anni, è il punto di riferimento per la formazione musicale contemporanea. CPM Corsi Online. Musica. Passione. Futuro.